Non riesco a immaginare un paese senza il suo giardino pubblico con queste piante molto alte, piantate nel 1932 e non riesco a immaginare Piazza San Giovanni senza quelle piante. Bisognerebbe avere i soldi e la possibilità, anche da un punto di vista tecnico, di sostituirle con piante già sane e già adulte. Comunque riusciremo attraverso la cooperativa Passo Cisa a intervenire su ogni singola pianta e a togliere semplicemente i rami ammalati e a non fare più le potature che venivano fatte un tempo, che hanno fatto marcire i tronchi, come succede in tanti paesi della provincia. Quindi il verde va curato, bisognerebbe anche avere la possibilità di spendere dei soldi, di ripiantumare e questo purtroppo non è possibile, però per evitare dei danni e forse anche delle tragedie annunciate, Fausto con la cooperativa Passo Cisa toglierà tutti i rami secchi da queste piante.